questa mattina sono andato a fare alcune commissioni quando sono tornato ho visto che dalla cassetta delle tre sbucava una busta enorme parzialmente infilata sono andato a vedere che cos'era ed era la mia copia di ossigeno è una rivista edita da people edizioni ogni numero è illustrato quasi interamente da un illustratore diverso questo numero di marzo ci sono io e il giallo è venuto bene in foto mi sembrava più spentino invece averlo carico perfetto questo è un articolo di giuseppe civati sulla spagna questo sulla francia la sinistra in francia su biden con trump sulle manifestazioni in iran questo sui complottisti sono molto soddisfatto di come è venuto sul movimento degli imbrattatori sui cambiamenti climatici questo su scomodo la sinistra modello istruzioni che questa è una mappa del congresso del pd e anche di questa sono stato contento la pizza pt fanno questo sul gli ong salvataggi in mare e un po di foto qui parla vagamente di me fa vedere un mio schizzo e poi dei disini questi non sono miei e purtroppo sono anche più belli e visti così mannaggia ed è finito la rivista si può ordinare sul sito di people e forse anche nelle librerie si può trovare credo ok ho finito adesso le mie mani inquieti continuano a tocchi chiare la rivista no non la tocco va bene vi saluto ciao